Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale Progettavano l'omicidio di due donne In manette due giovani di Saltara e Orciano A lavoro nei seggi per le elezioni regionali di maggio Largo a studenti disoccupati E' una studentessa dell'istituto Adriano Olivetti Il primo sindaco per un giorno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia Quella che sentiremo tra poco è la storia La storia assurda tratti grottesca di due amici Che sono stati arrestati dai carabinieri Mentre stavano progettando l'omicidio di due donne La nonna di uno dei due E una donna che si era invece messa di traverso Ostacolando un flirt amoroso Entrambi i piani sono falliti Come abbiamo detto E sono stati arrestati dai carabinieri E' stata denominata operazione furbo e più furbo Quella condotta dai carabinieri Che ha portato all'arresto di due ragazzi Si tratta del 22enne Vincenzo Mancani Meccanico residente a Calcinelli di Saltara E di Luca Baci Agricoltore 34enne di Orciano I giovani amici avevano deciso di studiare un piano E di uccidere due persone Per risolvere velocemente I loro problemi affettivi ed economici Quello che ha sconvolto gli inquirenti è proprio questo Per loro progettare un omicidio Sembrava fosse la cosa più normale del mondo Avevano un obiettivo E dovevano raggiungerlo La storia è iniziata con una 57enne di Calcinelli Colpevole secondo Baci Di ostacolare i suoi progetti amorosi Con una 22enne amica della donna Così quest'ultimo ha ben pensato Insieme al complice di tagliare i freni della sua auto Loro ritenevano fosse di intralcio Di fatto non lo era Era la ragazza che utilizzava la 57enne come alibi Per resistere alle avanze dei ragazzi La vittima dopo una serata trascorsa In un locale di Monte Maggiore al Metauro È salita sulla sua vettura Una Lancia Y Al primo incrocio però si è accorta Di avere un guasso ai freni Superato lo spavento È ingranato la prima marcia E a bassa velocità è tornata a casa Quando poi il meccanico A cui si è rivolta Ha scoperto che non si trattava di un'avaria Ma di un sabotaggio Le ha consigliato di rivolgersi ai carabinieri Una volta andata alla stazione di San Giorgio di Pesaro Per spiegare quanto accaduto Sono partite le indagini Da qui è emerso che dieci giorni prima Baci e Mancani erano andati in caserma Per segnalare che una donna del posto Dopo essersi ubriacata Guidava pericolosamente a Zizzag Il loro intento in realtà era quello Di giustificarne un eventuale incidente mortale I sospetti nati da questi indizi Hanno portato i militari a porre sotto controllo I cellulari dei malintenzionati Scoprendo che amareggiati Per il piano non andato a buon fine Si stavano organizzando per uccidere A colpi di martello Un'anziana ottantenne La nonna materna di Mancani Perché con l'eliminazione della nonna Si sarebbe liberato il lascito ereditario Che era l'obiettivo finale L'omicidio doveva essere eseguito da Baci Tant'è che nel portafogli dell'amico È stato trovato un assegno di 1500 euro All'uintestato Poi si è scoperto che era pure falso E quindi non avrebbe nemmeno potuto Intascare la somma pattuita Addirittura avevano studiato Anche la fuga all'estero dopo il crimine La minaccia dell'assassinio Ha fatto scattare degli appostamenti A casa dell'ottantenne Del tutto ignara della situazione Quando invece i due si sono accorti Dei carabinieri Baci Ha iniziato ad avere paura E si è tirato indietro Problemi invece Non ce n'erano per il nipote Della pensionata Che al telefono molto serenamente Aveva affermato Di aver già contattato Una persona di Ancona Che per 500 euro Avrebbe ucciso la nonna A quel punto è stata firmata L'ordinanza di un custodia Cautelare per limitare La loro pericolosità Queste indagini Comunque sono stato frutto Anche di una grande collaborazione Assolutamente sì Le indagini Hanno dei risultati Quando avvengono appunto Con la collaborazione Di più comandi Nel caso specifico La stazione di San Giorgio di Pesaro La stazione di Saltara E soprattutto Il fondamentale supporto terchino Del nucleo operativo E radiomobile di Fano Grazie a questa sinergia Tra le forze dell'ordine Ora gli esecutori Si trovano dietro le sbarre Incriminati per il primo omicidio Ovvero il tentato omicidio Della 57enne E la procura sta indagando Anche per il secondo omicidio Omicidio che non è stato portato Al termine Per l'intervento Dei carabinieri Ieri si è svolto Ricorso al riesame Per la loro scarcerazione Ma i giudici Hanno riconfermato La cattura E il carcere Beh davvero Complimenti ai carabinieri Il maltempo Il maltempo adesso è peggio Sembra essere passato L'allerta si è spostata Verso il sud dell'Italia Qualche danno Comunque Il maltempo lo ha causato Anche nel nostro territorio Vediamo dove Le piogge intense Delle ultime ore Hanno fatto preoccupare Chi nei mesi scorsi Ha subito ingenti danni A causa del maltempo Hanno infatti creato problemi Nelle marche Come nell'Ascolano Dove la protezione civile Ha controllato Il livello del torrente Menocchia Che ha superato i due metri A Fano invece I tecnici della provincia Di Pesero e Urbino Insieme ai carabinieri I volontari della protezione civile comunale Di Monbaroccio Hanno monitorato Per diverse ore Il torrente Arzilla Esondato in più punti Oltre ad allagare I campi circostanti A farne le spese Come sempre È stato il ristorante Ciavarini Acqua e fango Sono entrati Per l'ennesima volta All'interno del locale A causa di una frana La strada provinciale 26 Che collega Monbaroccio A Cartoceto È stata chiusa al traffico Da queste immagini Si può notare Come parte dell'asfalto Si è stato trascinato via I vigili del fuoco di Fano Invece sono intervenuti Nella strada sotto le selve In zona Centinarola Per abbattere una pianta pericolante Finita sopra i cavi della Telecom Intanto la provincia di Pesero e Urbino Ha stanziato 500.000 euro Per riparare alcuni danni alla viabilità Le cattive condizioni climatiche Hanno causato numerose situazioni di criticità Sulle strade provinciali Danneggiate da frane smottamenti Buche causate dalla pioggia E rami e piante sulle carreggiate Per le forti raffiche di vento I comuni interessati Che riceveranno i fondi Sono quelli di Petriano Tavuglia Vallefoglia Tavoleto Barchi Sant'Ippolito E Pergola In maltempo delle scorse settimane Aveva anche spezzato La lancetta di minuti Dell'orologio del campanile In piazza 20 Settembre L'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini Ha comunicato Che gli uffici tecnici del comune Stanno prevedendo Alla riparazione del guasto Qui parliamo di un dato Comunque estetico Che dà La bellezza O la cura Il decoro della città In questo caso Sono stati stanziati 18 mila euro Perché Occorre noleggiare Un mezzo Una gru Un cestello Andare fino a quel punto È una cosa che Sembra banale Ma comunque Va fatta nelle condizioni Di sicurezza E tecniche Necessarie Quindi Prossimamente Faremo l'intervento Adesso cambiamo argomento Corsia preferenziale Per disoccupati E studenti Nei seggi Delle elezioni regionali Che si svolgeranno Il prossimo 31 maggio Lo ha stabilito La commissione comunale Che dovrà nominare Oltre 270 Scrutatori Priorità assoluta Dei cittadini Disoccupati Inoccupati E degli studenti Non lavoratori La commissione elettorale Del comune di Fano Composta dal sindaco Massimo Seri Dai consiglieri comunali Rosetta Fulvi Del PD Mattia De Benedittis Della lista civica Noi giovani Aramis Garbatini Di progetto Fano Ha stabilito I nuovi criteri Di nomina Degli scrutatori In occasione Delle prossime elezioni Regionali Sì abbiamo Convocato La commissione elettorale Mi sono permesso Come sindaco Di avanzare La proposta Di scegliere E di nominare I scrutatori Per le prossime elezioni Regionali Tra coloro Che non hanno un lavoro Che sono disoccupati O studenti Che non lavorano Proprio per dare un segnale Anche considerando il periodo Che stiamo attraversando Penso che un'amministrazione Deva avere questa sensibilità In passato Non è mai stato fatto La commissione ha accolto Questa proposta Quindi gli oltre 270 Scrutatori Saranno scelti Una metà Li sorteggeremo Quindi daremo anche Una possibilità A tutti coloro Che non hanno Dele relazioni Una parte Li nomineremo Scelti Tra quelli che sono iscritti Che hanno queste Caratteristiche Questo significa Che il 50% Degli scrutatori 136 effettivi E 30 supplenti Verrà nominato Tramite sorteggio Tra coloro Che iscritti Nell'apposito albo Si trovino Nelle condizioni Di disoccupazione Di inoccupazione Risultante Dall'iscrizione Al centro Per l'impiego E di studente Non lavoratore Mentre il restante 50% 135 effettivi E 30 supplenti Verrà nominato Dalla commissione stessa A fine di garantire La presenza Di un'adeguata Professionalità Nei singoli Seggi elettorali Ma anche In questo caso Coloro Che saranno Individuati Direttamente Dovranno trovarsi Nello stesso Stato dei primi Per poter partecipare Al sorteggio È necessario Presentare Un'apposita domanda All'ufficio elettorale Del comune di Fano Entro le ore 13 Di venerdì 24 aprile Utilizzando L'apposita modulistica Scaricabile dal sito Istituzionale Del comune di Fano O disponibile Direttamente All'ufficio elettorale Sarà poi cura Dell'ufficio stesso Procedere Alla verifica Delle domande Presentate Prima che la commissione Si riunisca Per il sorteggio E per la nomina ufficiale Quindi penso sia Anche una bella Risposta Si dà una possibilità A chi in questo momento Magari ha delle difficoltà Maggiore rispetto ad altri Espianto multiorgano All'ospedale Santa Croce Di Fano I familiari Di una donna Morta per Emorragia cerebrale Hanno Consentito La donazione Dei reni Destinate All'Umberto I Torrette di Ancona E del fegato I vasi liaci Destinati invece a Milano Le corne prelevate Sono state Trasportate Nella banca Degli occhi Di Fabriano Il sostegno Alla donna E alla coppia Dalla gravidanza Alla nascita Luci e ombre È il titolo Dell'incontro Dedicato ai futuri Genitori Che si terrà Domani Alla Mediateca Montanari Di Fano L'appuntamento Previsto È per le ore 16 Ed è organizzato Dal servizio Di psicologia Ospedaliera Di Marche Nord Una volta al mese La città di Fano Avrà due sindaci Al debutto Per questa nuova iniziativa Voluta dal sindaco Massimo Seri C'è una ragazza Dell'istituto Olivetti di Fano Noi siamo andati A conoscerla Bantarelli Giorgia Chiara Affiancherà il primo cittadino Per un'intera giornata Dal primo All'ultimo Appuntamento E avrà modo Di osservare Capire da vicino Alla gestione Della cosa pubblica Giorgia Chiara Baldarelli Residente a San Lorenzo In Campo E studentessa Della quinta B Dell'istituto Olivetti Sarà il primo sindaco Per un giorno Nel prossimo mese Di aprile Un'iniziativa Che avrà l'obiettivo Di recuperare La fiducia Venuta a mancare Negli ultimi anni Ha dichiarato Massimo Seri Da chi aveva il compito Di rappresentare La classe dirigente E poi invece Non ha dato il buon esempio Quindi per almeno Un anno Una volta al mese La città di Fano Avrà ben due sindaci Mi piaceva Che un cittadino Potesse accompagnare Una volta al mese Il sindaco Per capire Cosa fa realmente Quelli che sono I suoi impegni Quelli che sono Gli stress Di un sindaco Le difficoltà Le soddisfazioni Che quando si riesce A risolvere dei problemi O fare qualcosa Per la propria città Sono delle soddisfazioni Come primo protagonista Seri ha scelto Uno studente Per chi è dalla scuola Che si parte Ha detto E nella scuola Si investe E considerato L'indirizzo di studi Di questi giovani È pensato Di affidargli il compito Di realizzare Il manifesto Dell'iniziativa Con la promessa Che poi un ragazzo Dell'istituto Mediante sorteggio Sarebbe stato A suo fianco Per un'intera giornata Lavorativa Speterà dunque A Giorgia Chiara Questo importante compito Sarà anche un messaggio Per il futuro Perché fa Non ha mai avuto Un sindaco donna Quindi È un segnale Dei cambiamenti Della società Che avanza Gli alunni Della Quinta C Si sono cimentati Ad elaborare Le loro idee Per il manifesto I 28 ragazzi Del corso Promozione commerciale Pubblicitaria Sono stati guidati Dalla professoressa Nicoletta Spendolini Le opere Realizzate poi Sono state sei E alla fine È stato scelto Quello di Filippo Pucci Questo manifesto Viene rappresentato L'abito del sindaco Ovvero l'abito elegante Del sindaco Ovvero la cravatta La giacca E la camicia Particolare di questo manifesto È la cravatta Che viene rappresentata Con i simboli Dello stemma Della città di Fano Complimenti a Filippo E ai compagni Nonché all'iniziativa Proposta da serie In occasione Della rievocazione storica Della famiglia Petrucci Sono arrivati Dal dirigente scolastico Del polo 3 di Fano Anna Gennari Ci è sembrata davvero Una bella cosa A parte diciamo Il discorso Della collaborazione Con l'amministrazione comunale Che è sempre una bella cosa E poi appunto Il fatto ecco Di cercare Di convogliare L'energia dei ragazzi Verso appunto Quello che è Il discorso appunto Di un'educazione No Diciamo così Alla convivenza civile Alla convivenza democratica E quindi All'amministrazione Della cosa pubblica Tutti i cittadini Che volessero diventare Sindaco Per un giorno Potranno dare La loro disponibilità Inviando una mail Sindaco Chiocciolacomune.fano.ps.it Oppure telefonando Il numero 0721 887 264 Oppure 887 201 E a proposito Di sindaco Vi ricordo Il 9 aprile Subito dopo Il nostro telegiornale Andrà in onda Una nuova puntata Di primo cittadino In diretta Qui dopo il Tg E adesso Cambiamo argomento Il 14esimo Premio internazionale Cartagine Verrà consegnato Il 28 marzo Prossimo All'atleta Pluripremiato Giuseppe Ottaviani 99 anni Di Sant'Ippolito Il riconoscimento Verrà consegnato Sabato prossimo Nel corso Di una cerimonia Di gala Che si svolgerà Tolentino In provincia Di Macerata Io ci credo Non è solo Lo slogan Che riecheggia Tra i tifosi Dell'alma Che sperano Nella vittoria Del campionato Ma è anche Il titolo Dell'iniziativa Dedicata Ai Granate In programma Giovedì 2 aprile Alla Fish House Di Marina Dei Cesari Si inizierà Alle 19.30 Con un aperitivo Cena Il costo di 15 euro Con piatti a base di pesce e carne Compresa una consumazione Poi per chi volesse C'è anche la possibilità Di cenare a menu fisso A 25 euro Oppure alla carta A partire dalle 20.30 Poi tutti gli appassionati Che non avranno La possibilità Di essere presente Alla Carotti Di Iesi Per la partita Potranno ascoltare In diretta La radio cronaca Al termine Si esibirà La Borghetti Bugaron Band In attesa Dell'arrivo Dei giocatori dell'Alma Di ritorno appunto Da Iesi E si giocherà Lo ricordiamo Alle 20.30 L'anticipo Perché poi c'è La domenica Di Pasqua E con questo Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Grazie Per averci seguito Arrivederci Grazie